Allora 0-0 direi che si può accogliere con grande soddisfazione, sei d'accordo? Beh direi di sì, non siamo venuti per il pareggio però ho visto come è stata messa la situazione più che soddisfatti di un pareggio. Come è andata questa partita? Te l'aspettavi così? Ti aspettavi qualche difficoltà in più? La Spal ha faticato a costruire davanti e ha faticato anche, anzi direi soprattutto, in superiorità numerica? Ma quella della superiorità numerica non me l'aspettavo, pensavo magari che ci mettessero più sotto, invece come è giusto che sia abbiamo sofferto, però insomma siamo riusciti anche ad andare di là, ad essere pericolosi. Però invece quella del primo tempo è stata penso una partita aperta dove secondo me abbiamo fatto qualcosa in più, abbiamo rischiato poco, abbiamo fatto qualcosa in più di loro e niente, l'avevamo preparata, poi non è riuscito tutto però insomma ci stava. Ti chiedo invece se, insomma costruendo qualcosina in più davanti, se si poteva anche provare a vincere con maggiore convinzione, mi riferisco soprattutto ai primi 55 minuti oppure no? Beh, ma quello è ogni partita è a sé, insomma davanti e stanno facendo un gran lavoro, ci manca quella piccola cosa che poi è la cosa fondamentale, però diciamo c'è tutto, penso che sia anche una questione che ci gira un po' così in questo momento, però penso che ci sia tutto ora tranne che ci manca quello, ci manca il gol. Quindi ci sono tutte le cose che ci devono essere, ci sono, quindi ci siamo, prima o poi girerà e noi continuiamo a martellare e prima o poi ci sbloccheremo. Abbiamo sottolineato anche con il mister, è un po' una dimostrazione di maturità questa della squadra stasera in 10 contro 11, qualche settimana fa forse lo 0-0 al di là delle difficoltà della SPAL, l'Arezzo non l'avrebbe portato a casa, siete d'accordo? Può essere, può essere, siamo stati bravi a non forzare troppo, magari prima forse anche il momento è diverso, magari in una fase inoltrata del campionato magari è chiaro che non ti vai a giocare comunque il tutto per tutto, però ci siamo riusciti a spingere con il giusto equilibrio senza rischiare troppo. Di che effetto ti ha fatto giocare in questo stadio? Insomma la SPAL per te poteva essere un crocevia importante della carriera, no? Una volta mi dicesti io non ho rimpianti e non voglio coltivarli, insomma però giocare qua che effetto ti ha fatto? È bellissimo, stadio bellissimo, tifo bello, c'erano anche nostri, erano stupendi anche nostri e è stata veramente una bella emozione. A quella cosa lì non ci hai ripensato? No, sinceramente no. Grazie a tutti.